Sono sul mio server di Minecraft ma non dovevo entrare in casa Aspettate perché questa è la parte più inquietante Entro in casa e... SCOMPARE IL PAVIMENTO DI SOTTO Oh mio Dio, oh mio, no, via, 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 mercoledì, di nuovo, sei tu, accidenti a lei Avete visto che in che provata sono caduto da qua, ho messo l'acqua, ok, perfetto, si è sbaggata Allora, qua ci sono delle porte e c'è scritto OVEST, NORD, EST e SUD Hmm, quale scegliamo? Scrivetemi anche voi nei commenti quale dobbiamo scegliere per i prossimi video magari Eh, per questo video scegliego io, ovviamente, il NORD E... Ah, bene, qua c'è di nuovo la mercoledì schifosa Vieni qua, cosa vuoi da Duris? Ecco, ti chiedo qui dentro E sceglierò di nuovo NORD Raga, è tutto buio Quando succede questa cosa, io mi cago sempre addosso A cipicchia scurreggiona Se vedete che a volte guardo di là, è perché, eh, devo vedere Ma che diavolo è sta roba? Questo sembra essere un portale Hmm, che dite? Entriamo? Ovviamente sì, dai, sono ottimista e positivo Bene Caspita, di posto è questo Sono andato a capire meglio che cos'è questo posto E ho cercato in lungo e in largo per trovare una risposta Legno delle ombre Wow, che nome suggestivo Ma l'unica cosa che mi si è presentata davanti è stata proprio lei, anzi, dietro Mercoledì, di nuovo lei Scusami, cosa vuoi da me? Mi sta ammazzando, raga, mi sta ammazzando Via! Ho tre cuori Però ce la posso fare in questa dimensione veramente fighissima Mi piace troppo questa dimensione e so che ce la farò Andiamo, forza, seguitemi E iscrivetevi al canale, per favore, grazie Però scappiamo da mercoledì ora, prima che sia troppo tardi E anche un cartello molto strano Devo dire Trova qualcosa di inusuale Cosa, cioè? Cosa si intende per inusuale, scusatemi? Questo posto è come un deserto Un deserto, però, che non conosciamo Una terra inesplorata Che al suo interno nasconde dei segreti E chissà cos'altro Raga, di nuovo Cioè, non so se voi lo vedete, è molto piccolo Ma è un cartello dove c'è scritto Cerca la cosa inusuale Ok, sembra effettivamente che questa cosa inusuale Serva molto, ma non so che cosa sia questa cosa inusuale Accidenti e le piante mannare Ok, non so se l'ho trovata Non ne ho idea Però vedo un grande alberone Veramente enorme ed imponente, raga Vabbè, io gli scavo dentro E poi dopo ci vediamo in cima Sono finalmente arrivato in cima E quindi Cosa volete da me? Continuo a cercare Sono la voce del destino Vuoi farcela Io brode avventuriero E con questa perla Io, raga, direi che mi posso buttare Perché l'ho fatto Perché l'ho fatto Vabbè, però dai Sono risponato qua al portale E l'albero so dove Scrivetemi nei commenti Se dobbiamo andare a ricercare l'albero per la seconda volta Iscrivetevi al canale per delle avventure Figurissime Scrivetevi al canale per delle avventure Scrivetevi al canale per delle avventure